Boh, siamo a posto ragazzi? Mick, Ezio, tutto ok? Data bene? Ma scusa, ma ancora, un altro video. Scusa, io mi diverto e lo faccio. Quindi, cioè, boh. Che noida. Guarda che tu hai rotto questi video. La gente si dice veramente... Ma tu che hai scato? Scusa, ma chi sei? Poi non c'è un cantante l'inglese la pronuncia veramente zero totale. Vai, vai, vai. Ma sparisci, dai Mick, facciamone un'altra. Dai Ezio, parti, vai. Ma io sono una proiezione della tua mente, lo sai o no? Comunque tu hai stufato con questi video, assolutamente. Ma fai quello che vuoi. Si, tra 언�lesti. Da stabile, va, vai. Oooo. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti